Cinque nazioni in lotta per il titolo europeo di baseball, il gioco americano che sta trovando sempre nuovi tifosi. A far l'arbitro però non è molto comodo. Sono in campo la squadra italiana e quella belga. Gli azzurri perdono di stretta misura contro i forti avversari che si piazzano secondi. C'è stata un po' di sfortuna per il nostro nove, ma la tecnica dei nordici si è rivelata superiore a quella latina. La sudata vittoria fa esultare i bravi belgi. Scendono sul terreno i dominatori del campionato, i fortissimi olandesi, per il loro ultimo incontro con i giovani germanici. È un successo contrastato sino all'ultimo, ma pienamente meritato. La vittoria viene conquistata di tecnica e di forza. Il tripudio dei neocampioni esplode in forme goliardiche di entusiasmo. Questo baseball però, che strano gioco.